ciao a tutti benvenuti in questo nuovissimo video io sono Liuba e bentornati nella nostra rubrica Le Mondmas quindi i nostri video dedicati al periodo natalizio allora oggi ci sarà un nuovo video polemico dopo ovviamente tantissimo tempo che non ne facevo uno e come avrete letto dal titolo voglio un po parlare delle influencer furbette o comunque delle influencer che non sono del tutto oneste sui social dobbiamo tenere presente che io in questo video non farò nomi è una questione proprio di tranquillità perché è inutile far nomi perché poi si va ad attaccare quella persona non ha senso quindi prendiamo tutto in maniera vaga e allora oggi voglio parlare di una cosa che mi è successa un po di tempo fa per voi cioè per me è successa ieri però per voi sarà successa un po di tempo fa chi mi segue su instagram saprà benissimo di cosa voglio parlare oggi anche perché nelle stories ho detto che avrei voluto fare un video proprio dedicato mi dispiace solo farlo adesso che sono i miei video Le Mondmas quindi i miei video che tecnicamente dovrebbero un po rientrare nello spirito natalizio questo non rientra moltissimo nello spirito natalizio però vabbè va bene così allora praticamente ieri ero su instagram e stavo guardando le stories di alcune persone che seguivo e a un certo punto cado nelle stories di questa ragazza che seguo lei è una creator lavora sia su youtube che su instagram come un po tutti sono nati su youtube e poi si è un po spostata su instagram non è molto molto attiva su youtube a volte sì a volte no un po come le gira e praticamente lei ha fatto una linea di prodotti in collaborazione con un brand come hanno fatto tantissime altre persone e stava facendo vedere un po i prodotti che aveva realizzato che aveva fatto uscire quel giorno quindi io li stavo guardando stavo un po vedendo il video di presentazione ho anche visto video di presentazione su youtube mi stavo un po informando anche perché i prodotti in realtà mi interessavano perché li trovavo validi e li trovavo molto carini cioè tuttora li trovo validi per carità ovviamente non è che dico se una persona fa delle furbate i prodotti che fa uscire non sono validi assolutamente no il prodotto il personaggio sono cose completamente differenti io sto parlando diciamo della comunicazione digitale di quello che lei sta producendo quindi del suo prodotto quindi questa ragazza appunto fa delle stories fa vedere queste cose le mostra fa vedere un po i prezzi tutto quanto i vari swatches cose molto molto dettagliate e quindi a un certo punto io andando avanti nelle stories noto alcune furbate che questa persona fa in realtà spessissimo io per carità non odio questa persona non ho nulla contro questa persona per carità anzi mi fa anche abbastanza simpatia perché comunque la seguo con piacere perché mi piace un po tutto il suo percorso di vita il suo percorso in generale i video che fai su youtube alcuni li trovo molto carini molto interessanti però lei cade sempre in questi in queste furbate in queste cose veramente furbette che trovo poco oneste nei riguardi delle persone che la seguono per esempio lei aveva fatto questa stories in cui aveva fatto una references al brand alla casa produttrice di questi prodotti la references è un diciamo una citazione ecco quindi le stava citando questa casa di cosmetici taggandola e solo che aveva messo il tag praticamente in un punto invisibile cioè nel senso che aveva messo proprio in alto in alto in alto a sinistra guardando appunto la stories quindi se voi avete un po presente come sono fatte le stories le aveva messo il tag proprio dietro il nome quindi tu non puoi cliccare sul tag perché vai rimandato alla pagina e molto spesso lei fa queste stesse cose magari in altri punti magari nasconde gli hashtag dove c'è il box per scrivere o il box per inviare la stories quindi in posti che sono difficili sia da vedere che da proprio da toccare da cliccarci su e questo non so se voi conoscete lo IAP comunque è un istituto che non istituto nel senso come in casa un istituto nel senso lato che si occupa proprio della legislazione diciamo di internet diciamo così degli influencer e queste cose sono proprio nelle leggi dello IAP completamente vietate quindi tu non puoi nascondere o manomettere degli hashtag o delle references perché devono essere facilmente visibili e facilmente cliccabili dal tuo pubblico quindi dei tuoi clienti tra virgolette chiamiamoli così che poi sono non sono altro che i follower no e ve l'ho detto questa cosa lei la fa sempre la fa veramente spesso veramente tante tante volte io la trovo una cosa veramente oltre che brutta da vedere ma proprio ti fa fare brutta figura perché comunque noi siamo nel 2019 ormai quasi 2020 e gli spettatori non sono neanche così stupidi quindi le persone capiscono cosa si può fare cosa non si può fare anche perché le persone si informano le persone si informano su quello che più o meno interessa quindi non è una cosa carina da fare io veramente ci sono rimasta male perché va bene una volta va bene due volte va bene tre volte alla ventesima dico porca miseria ma allora è recidiva in questa cosa e mi sembra assurdo perché comunque c'è tu lavori su instagram tu lavori nel web e manometti delle cose che non dovresti fare cioè manometti delle azioni che potrebbero essere ripercussioni future perché ovviamente c'è se una cosa non si può fare poi ci sono delle ripercussioni capite e ovviamente io parlo in generale di questa ragazza ma seguo tantissime persone che sono più o meno furbette su su instagram o anche su youtube per esempio su youtube è un pochino più difficile omettere una collaborazione perché lì veramente ci sono sanzioni bruttissime sanzioni veramente belle pesanti quindi chi non cita una collaborazione o chi non specifica sia a voce che magari nell'infobox che quel video è in collaborazione e o sponsorizzato da una precisa azienda comunque può ricevere molte veramente altissime su instagram è un pochino più diciamo un pochino più offuscata l'idea di quello che si può fare di quello che non si può fare perché è tutto molto nuovo quindi le leggi sono ancora un po in fase di costruzione e quindi a me questa cosa fa tanto tanto arrabbiare perché io per esempio sono una persona che le pochissime collaborazioni che ha fatto le ha sempre citate per esempio quando io ho fatto la collaborazione con Estée Lauder che mi hanno inviato il siero quello l'Advanced Night Repair quello che si chiamasse io ero veramente emozionata di dirvelo ero veramente contenta ero soddisfatta mi sentivo fiera no di poter dire di aver fatto un minimo di collaborazione con Estée Lauder ed ero veramente contenta quindi quando io ho fatto il box informazione ho scritto che dentro quelli video c'era una parte di video sponsorizzata da appunto L'Oreal Octoly eccetera 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 io l'ho scritto in maniera del tutto fiera no ero felice di potervi dire che avevo fatto un video in collaborazione perché comunque io amo fare youtube youtube è una mia grande passione però se posso anche guadagnarci qualcosa sia dal punto di vista magari dei prodotti o anche dal punto di vista economico io sono fiera e felice di dirvelo no perché evidentemente quello che sto facendo ha un riscontro positivo sia con voi che con le aziende in generale e per me è una cosa motivo di vanto dire sto facendo questa collaborazione con questa azienda cioè proprio io è una cosa che proprio mi fa piacere dire e io invece quello che penso è che queste persone un po' si vergognino del fatto che alcune cose gliele invino no come per dire magari se io faccio vedere questo prodotto che mi hanno inviato magari mi andranno contro le persone perché diranno che non ne parlo in maniera onesta perché me mi hanno inviato e quindi lei dice io a posteriori mi paro il sedere o mettendo o comunque mettendo in posti nascostissimi l'hashtag advertisement oppure gifted oppure qualsiasi altra cosa e quindi questa è una cosa che comunque ragazzi non si può fare e soprattutto non si deve fare perché proprio immorale e bui la trovo veramente brutta io penso che appunto queste persone che fanno queste sponsorizzazioni nascoste un po' nell'ombra le facciano per la paura di essere criticate e io la trovo una cosa assurda perché comunque se è il tuo lavoro tu dovresti essere felice dovresti essere fiera no di scrivere collaborazione con tizio collaborazione con caio collaborazione con sempronio cioè dovresti essere proprio felice di scriverlo non doverlo mettere in posti nascosti in posti in cui non lo vuoi leggere in posti in cui ma sarà vero non sarà vero cioè oppure ometterlo completamente che proprio ragazzi gli è proprio reato allo stato puro e quindi sì perché comunque non si fa non so se avete sentito qualche tempo fa di quello youtuber che ha avuto una sanzione enorme perché non dichiarava i guadagni su youtube e quindi se non sbaglio era la guardia di finanza non mi ricordo comunque un ente pubblico le ha ha fatto la multa a questa persona a questo influencer e che poi vabbè bisogna anche capire lì quanto è tipo hype delle riviste o delle pubblicità e quanto effettivamente è così è reale e quindi sì c'è tutto questo per dirvi che non capisco perché queste persone facciano così che poi questo video non servirà assolutamente a nulla perché uno non lo vedranno mai queste persone perché più tu sei grande di follower più tra virgolette denigri le persone più piccole quindi neanche ti tange il fatto che qualcuno possa parlare di te se io avessi tipo 3 4 5 milioni di followers sicuramente questa persona vedrebbe questo video ma comunque non penso che cambierebbe il suo modo superandi perché un po' da quello che comunque leggo in giro quello che vedo quello che sento è che questa persona è proprio recidiva ce lo fa spessissimo e mi dispiace perché comunque ne parlo io poi ne parla un'altra persona ne parla un'altra persona comunque la voce un po' gira chiacchiera e tu fai ti fai cattiva pubblicità che poi si ripercuote nel tuo personaggio che magari sei la persona più onesta del mondo più limpida del mondo più trasparente più buona di tutto il mondo e io questo non lo metto in dubbio perché la vedo che è proprio una ragazza genuina una ragazza che proprio mi piace però quando si tratta di lavoro non lo so è come se avesse due facce no e io ne ho parlato appunto direttamente con voi che mi seguite su instagram ho fatto delle stories e ho avuto tantissimi feedback positivi vostri quindi voi mi avete detto tantissime volte sì ho più o meno capito di chi stai parlando lo noto anch'io ma non lo noto solo con lei lo noto anche con x y z e quindi anche voi mi dite che l'avete notato in tantissime persone io nella mia mente ho due grandissime persone che fanno queste cose due grandissime furbette che fanno queste cose da anni e che ovviamente non posso dirvi chi sono ma se più o meno conoscete il giro di youtube o delle grandi influencer più o meno avete capito e invece conosco altre persone che fanno questo da tantissimi anni e che lo fanno nel modo più limpido più pulito più trasparente possibile ve ne potrei citare un'infinità di persone che veramente ammiro su youtube e ammiro il loro percorso lavorativo su youtube e quindi sì un po' tutto questo pappone per dirvi che sono arrabbiata perché veramente queste cose mi danno fastidio perché danno fastidio a me che riesco a capire che quello che stai facendo è sbagliato e mi fa ancora più rabbia pensare che magari ci sono delle persone che non capiscono che queste cose sono sbagliate e che quindi si fanno un po' fregare ingenuamente da ciò che viene detto che poi per carità io non sto assolutamente dicendo che se un prodotto è sponsorizzato se un prodotto ti è stato regalato se tu fai un prodotto con un determinato brand allora vuol dire che quel prodotto ne parli bene solo per quel motivo solo perché sei tra virgolette pagato o perché hai un riscontro economico di pubblicità di visualizzazione di qualsiasi cosa io sono una persona che dà fiducia alle persone che seguo quindi se una persona che seguo mi fido mi piace io do fiducia che se lei parla del correttore di x e dice che è un buon correttore io mi fido e se poi ovviamente testandolo su di me noto che sia un buon correttore lo compro ovviamente c'è guardo quello che mi consigliano ma poi ragiono con la mia testa non è che se queste persone mi dicono mio dio questo correttore è il migliore del mondo datelo a comprare io sono lì oddio sì lo voglio lo voglio comprare lo vado a comprare assolutamente no perché io ho una mia testa pensante e per quanto mi può piacere e per quanto io mi fidi della tua recensione poi io testo sulla mia pelle e vedo se provare oppure no invece ci sono persone che fanno l'opposto quindi se io dico ragazzi comprate questo blocco di aria è meraviglioso compratelo vi do anche un codice sconto e allora c'è dall'altra parte una ragazza facilmente o un ragazzo facilmente influenzabile che dice oddio sì lo voglio anch'io quel blocco d'aria è anche scontato lo voglio che per carità ci sta però cercando di non fregare le persone ovviamente quindi sì non so come concludere a questo video io quello che vi dico è se voi magari non siete persone che sono tanto nel giro di youtube delle sponsorizzazioni di queste cose qua fatevi un po un giretto nel sito dello iap o comunque cercate magari legislazione social media o non so network online queste cose qui cercate un po in giro e vedete e fatevi un minimo di cultura per non essere diciamo presi in giro da nessuno perché comunque voi vedete in giro quello che vedete le pubblicità le sponsorizzazioni ma comunque ragionate con la vostra testa non cercate di farvi fregare mai e vi ripeto non sto dicendo che le persone che sponsorizzano dei prodotti vi freghino di base assolutamente no perché altrimenti l'avrei fatto anch'io e non è una cosa che assolutamente sto dicendo io per esempio le poche sponsorizzazioni che ho fatto le poche collaborazioni che ho fatto sono tutte collaborazioni in cui ho creduto in cui veramente mi sono trovata bene di cui penso che i brand siano validi e quindi ve li consiglio veramente a mani bassissime quando mi capiterà di provare un prodotto che magari non mi piace ve ne parlerò tranquillamente se poi l'azienda non vorrà più collaborare con me amen però ragazzi la base della diciamo vita sul web è la sincerità perché poi persa quella succede questo succede che una ragazza fa un video in cui si vuole sfogare della poca sincerità e quindi sì tutto questo per dirvi questo tutto questo per dirvi questo e quindi sì il video si conclude qua fatemi sapere ovviamente quello che pensate vi chiedo gentilmente di non fare nomi né in positivo né in negativo sotto questo video perché non ha senso quindi parliamo in maniera del tutto tranquilla fatemi capire se secondo voi avete capito le mie parole se siete d'accordo su o se non siete d'accordo su quello che dico perché ovviamente il mondo è bello perché vario e nulla quindi io vi invito a lasciarmi un mi piace ad iscrivervi al canale attivare la campanellina tutto sempre le stesse cose e niente noi ci vediamo domani sempre qui sempre su questo canale alle 17 30 con un nuovo video e vi mando un bacione e ci vediamo domani ciao